La disoccupazione giovanile è una vera e propria piaga sociale. Il mondo del lavoro ha dato in questi anni il messaggio che i ragazzi non servono, ma quanto accade non si può solo attribuire a cause di livello globale e internazionale. È uno dei passaggi forti del discorso di Papa Francesco e membre della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro ricevuti in Vaticano. A loro ricorda che la Chiesa richiama mettere l'uomo al centro dello sviluppo e che il bene comune non può essere raggiunto solo con il guadagno. Sottolinea poi la portata sociale del lavoro, la capacità di coinvolgere le persone e affidare responsabilità in modo da stimolare l'intraprendenza, la creatività, l'impegno. È questa la strada della speranza nel futuro. Ma, evidenzia il Papa, c'è anche una portata etica legata alla giustizia che implica il rispetto delle leggi, il prendere a cuore la sorte dei meno avvantaggiati e dei più poveri, l'inventarsi cose nuove per il bene di tutti. Infatti, solo se radicata nella giustizia e nel rispetto della legge, l'economia concorre a un autentico sviluppo, che non è margini individui e popoli, si tenga lontano da corruzione e malaffare e non trascuri di preservare l'ambiente naturale.